Diamo il benvenuto a Marta Feltrin Head of Digital Ecosystem e CRM di BNL gruppo BNP Paribas. Grazie per l'invito è un piacere essere qui con voi. Partiamo dall'attuale contesto che è contraddistinto dalla transizione digitale. L'emergenza sanitaria ha certamente contribuito a confermare questo trend che era già in atto provocando tra l'altro un'accelerazione senza precedenti. Ecco dal vostro punto di vista come sta cambiando il rapporto fra credito e famiglia consumatrici sia in ambito retail che in ambito business? Io direi che il rapporto è già cambiato l'aspettativa di accesso a tutti i servizi bancari e quindi anche al credito è già entrato in una nuova fase. Un po' per tutta quella che è stata la spinta regolamentare che si è avuta fin dall'inizio della pandemia, un po' per l'aspettativa del cliente, del consumatore, del cittadino che oramai da un mese circa accede anche ai servizi dell'agenzia delle entrate in modalità remota. Ecco questo credo che sia il motivo per cui l'accelerazione del cambiamento di accesso ai servizi e quindi alla remotizzazione è il tratto distintivo di questo cambiamento perché effettivamente sempre più servizi, anche quelli più inaspettabili, sono fruibili a distanza e quindi l'aspettativa del cliente è quello di accedere in maniera remotizzata, in maniera autonoma, in maniera veloce a servizi finanziari, in particolare del credito, proprio perché siamo circondati e come dicevamo prima la pandemia ha accelerato questo trend, siamo circondati di questa digitalizzazione. Quindi di fatto l'aspettativa che noi abbiamo è che sempre di più il cliente consapevole di quanto è importante e anche di quanto è più semplice accedere in modalità veloce, sicura e remota ai servizi della banca sempre di più il cliente continuerà a chiederlo. Quindi di fatto la banca si prepara, ha seguito intanto all'inizio pandemia tutto quello che è stata l'accelerazione appunto anche sulla spinta regolamentare, ma la banca si prepara a continuare su questa strada e mettendo a disposizione i propri servizi in una modalità anche da un punto di vista architetturale pronta a seguire questo trend e a seguire questa richiesta da parte del cliente, sia consumatore che non consumatore. Sempre di più sarà necessario essere presenti sia sulle piattaforme BNL sia sulle piattaforme dei partner perché l'accesso al credito sia quanto più semplice possibile e quanto più autonomo lasciando al cliente la possibilità di interpretare le sue richieste nella modalità che preferisce, nella modalità con gli strumenti che lui preferisce, quindi che siano mobile, che siano sito, che siano attraverso partner. La digitalizzazione, la pandemia ha insegnato quanto è fondamentale essere presenti laddove il cliente richiede e quindi sempre di più il trend già in atto, come dicevamo prima, un cambiamento che già è avvenuto confermerà dal nostro punto di vista questa necessità di autonomia e di accesso veloce e semplice ai servizi finanziari in generale e al credito in particolare. La pandemia ha anche riposizionato le esigenze e i bisogni di imprese consumatori, sempre di più alla ricerca di soluzioni complete che rispondono ai macro bisogni della vita di tutti i giorni. Ecco, in una logica di ecosistema, pensiamo ad esempio alla casa, cosa state facendo per cercare di intercettare queste nuove esigenze e come pensate di metterle al centro delle vostre proposte? Allora, BNL già da anni ha intrapreso un percorso di attenzione a tutti i servizi non bancari nella consapevolezza di voler accompagnare il cliente, sia consumer che non consumer, nel raccogliere le esigenze della vita quotidiana, dalla mobilità ai servizi per la casa, nella consapevolezza che accompagnare un cliente non significa soltanto erogare un mutuo, ma offrire tutti i servizi che sono collegati al macro bisogno del cambio casa. Quindi in questa direzione BNL si è rafforzata nella costituzione, nella creazione di ecosistemi con partner nazionali per riuscire a garantire al cliente la possibilità di ottenere servizi finanziari sottesi a dei bisogni che non necessariamente sono esclusivamente finanziari. In questo senso riusciamo a voler essere punto di riferimento nella vita del cliente, riuscire ad essere riconosciuti come partner di fiducia, come partner competenti e soprattutto come partner che esprimono sicurezza da tutti i punti di vista. E questo soprattutto nelle nuove modalità di accesso ai finanziamenti che sono sempre più digitalizzate. Nell'ambito della digitalizzazione lo spettro delle cyberfrodi è sicuramente qualcosa che sta crescendo e che dà al cliente una sensazione di negatività che BNL vuole anche contrastare creando dei sistemi veramente sicuri di operare a distanza. In questo senso tutto l'approccio olistico che BNL sta avendo a sistemi di erogazione di servizi a 360 gradi e quindi non soltanto finanziari copre uno spettro molto più ampio e con dei partner proprio non bancari. Questo significa anche mettere a disposizione di questi partner infrastrutture pronte per essere integrate e per offrire appunto quella sicurezza di cui parlavo prima. Ecco, fra i grandi trend irreversibili c'è ovviamente quello della transizione sostenibile che è un tema centrale soprattutto per una banca come BNL fra le più attive da sempre sui temi della sostenibilità. Ecco, come pensate di sfruttare ulteriormente questo trend per favorire questa transizione ecologica? Allora, BNL e prima ancora il gruppo BNP Paribas ha tre grandi ambizioni da questo punto di vista. Offrire un'esperienza al cliente sempre migliore, impattare sull'economia sostenibile e avere un impatto positivo in generale sulla società. Questo si declina principalmente in quattro aree di intervento. Una specifica sul mondo delle famiglie per accompagnare le famiglie nella transizione ecologica in particolare nella revisione di tutto quello che è il mondo casa e quindi anche sfruttando tutti gli incentivi che sono stati messi a disposizione. Il secondo, di accompagnare non soltanto le famiglie ma anche le aziende nella propria transizione ecologica in settori diversi e in particolare per esempio quello dell'agricoltura. Terzo, quello sui giovani. BNL concretamente ha degli strumenti dedicati per esempio a sostenere gli studi sia in Italia che all'estero e quindi a finanziare il percorso di studi e tutto quello di cui lo studente ha bisogno proprio nella direzione di sostenere quello che per l'Italia è un indicatore non troppo felice che è quello degli studenti, dei giovani non occupati e non impegnati in percorsi di studi su cui l'Italia è un po' fanalino di coda in Europa. E quarto, quello di raggiungere un'inclusività sempre maggiore sulla comunità locale per esempio con un modello di servizio che è quello dei sordi di permettere in una modalità sempre più fruibile quindi con collegamenti a distanza nella lingua dei segni dicevo permettere di fruire di tutti i servizi finanziari e in particolare anche l'accesso al credito in una modalità sempre più consapevole e responsabile perché proprio laddove la parte di comunicazione risulterebbe difficile a distanza l'aver investito in un modello che consente l'inclusività anche di soggetti che più difficilmente possono intelleggere da un punto di vista proprio anche contrattuale abbiamo cercato veramente di semplificare per quanto possibile l'accesso ai servizi finanziari offrendo pari opportunità e quindi investendo proprio nell'inclusività. Quindi da questo punto di vista Benpe come gruppo e BNL in particolare ha veramente investito da tempo e continua ad investire per raggiungere quelle ambizioni che dicevo prima attraverso ambiti molto molto concreti sia in termini di prodotti che servizi e anche di modello di relazione con la banca. Grazie a Marta Feltrin per la chiacchierata e alla prossima. Grazie a voi per l'invito.